Il 7 febbraio, giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, la città metropolitana organizza un convegno. Quali gli obiettivi? Il convegno Passa la Palla non è solamente un momento di un pomeriggio, sarà un percorso. Questo è l'obiettivo della città metropolitana, lavorare insieme ai territori, insieme agli enti che si occupano di questo fenomeno e cercare di lavorare insieme. Passeremo la palla infatti ad un altro comune, che è un'altra scuola che lavorerà per tutto l'anno negli obiettivi. Diciamo che è fondamentale per noi riuscire a capire quali sono le motivazioni che stanno alla base di questo fenomeno e quindi cercare di lavorare insieme per riuscire a raggiungere più ragazzi e più famiglie possibili.